Mille persone raggiunte al telefono e domande sui servizi offerti da Aset S.p.A. Si è concluso con dati più che positivi il sondaggio biennale eseguito da Sigma Consulting nei 12 comuni serviti dalla società partecipata. Durata dell'intervista 12 minuti e meno del 20% ha preferito non rispondere. Puntualità ed efficienza sono i giudizi prevalenti sull'operato di Aset, gradita la cordialità e la professionalità del personale e voti eccellenti per i parcheggi, l'idrico, l'igiene ambientale e i servizi di illuminazione votiva e pubblica. Nella paesella risulta che non abbiamo insufficienze e che abbiamo una media del 7,3. 7,3 vuol dire che ci sono delle cose in cui abbiamo preso dei servizi in cui abbiamo preso 8 e dei servizi in cui abbiamo preso 6, però comunque siamo stati promossi. Il 92% delle persone intervistate ha espresso un voto complessivo tra 6 e 10 e il 47%, quasi la metà dell'intero campione, fra l'8 e il 10. I cittadini sono propensi alle campagne informativa, evidenziato Reginelli, anche per contribuire a migliorare i propri comportamenti, come nella raccolta differenziata. Ad esempio, alla domanda se è difficile differenziare, il 96% ha risposto di no. Sempre sui rifiuti, gli utenti hanno chiesto più controlli nelle isole ecologiche. C'è un 96% che ha piena fiducia nella fatturazione che viene messa ad Aset. Questo la dice lunga, sono tante cose, perché vuol dire che il cittadino pensa che quello che noi scriviamo e quindi quello che il cittadino paga è realmente collegato all'uso che ne fa. Quindi vuol dire che c'è un rapporto di fiducia molto stretto proprio tra l'azienda e i cittadini. Siamo molto soddisfatti, ha concluso il Presidente, e questo è il coronamento di un anno estremamente difficile, vista la pandemia. Alcuni servizi erano stati interrotti, ricorda Reginelli, perché ritenuti non essenziali, tra questi la pulizia delle isole ecologiche, sulle quali Aset ha ricevuto i voti più bassi, 6 e 6,5. Intanto partiamo da un principio che è quello che l'Aset non sporca le isole ecologiche, ma sono i cittadini che quando conferiscono sporcano le isole ecologiche, quindi partiamo già da lì. C'è bisogno di più controlli ed è quello che vogliamo mettere in atto. E in più vogliamo anche in qualche modo rinforzare i gruppi che vanno a pulire queste aree durante il giorno, in modo da far capire che determinate situazioni possono in qualche modo essere migliorate. Ripeto, per un certo periodo non si potevano fare queste cose, adesso si possono fare. Un'altra cosa, non ci dobbiamo sicuramente né riposare né dare atto di essere arrivati ad un obiettivo, ma semmai di cercare sempre comunque di migliorarci perché fa parte appunto della mission dell'azienda. Però si parte da dei presupposti estremamente positivi.